Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi, grazie di essere qui al nostro evento Effetto Domina. Io sono Monica Zanoni, in Ante Mota, qualcuno si conosce, sono Presidente dell'Associazione di Scienza Poetica di Lesa e in questo momento faremo un po' da moderatrice, passando la parola a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione del nostro evento. Non posso che dare il benvenuto a tutti, in questo luogo che personalmente ho realizzato una piccina di anni fa e che è la sede dell'Associazione Alpederone di cui sono Presidente. Il benvenuto è amplificato dal fatto che per la prima volta qua dentro succede una commistione che non è una parolaccia, nel senso che ci sono tre soci di Alpederone di cui due che ripingono e la stragrande maggioranza delle figure del menino sono loro, poi c'è un'altra socia di Alpederone che ha il pregio di scrivere, magari dipinge anche, non lo so, comunque ha il pregio di scrivere e poi ci si infundo, perché bisogna andare a Cesare, quello che è da Cesare, questo è il banchetto del mio editore, la cui erede, che lì davanti fa vinta di niente, è la grafica che presenta anche lei alcune sue opere, ma soprattutto per quanto mi riguarda questa è quella che disegna le copertine dei libri prodotti da Barbi Editore, tra cui anche il mio primo che è già uscito da qualche anno. Quindi c'è proprio questo fil rouge che lega queste persone, io sono ben felice di vedere che lo spazio moderno serve anche per portare a Darona delle figure, degli soggetti, delle situazioni che altrimenti non avremmo avuto l'opportunità di vedere e di conoscere. Quindi, buon lavoro.